L'Università di Napoli e l'Orientale con il Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo è da anni impegnata nel rafforzare i legami tra Italia e Cina, promuovendo scambi culturali e la cooperazione tra i due Paesi. Forte della sua lunga tradizione di studi sudorientalistica e per rispondere alle esigenze di un mondo in trasformazione, il nostro Ateneo ha di recente arricchito la sua offerta formativa con un nuovo corso di laurea magistrale in Saperi Umanistici e Tecnologie Digitali, che include un curriculum dedicato alle mitodologie informatiche per la gestione del patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è chiaro, formare professionisti capaci di coniugare competenze digitali avanzate con quella sensibilità culturale indispensabile per tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e storico. In un contesto globale segnato dalla transizione digitale e dai cambiamenti climatici, sfide che richiedono visioni condivise oltre i confini nazionali, il nostro impegno punta ancora una volta a favorire un dialogo internazionale più ampio e inclusivo.